Ciao ragazzi, 19 dicembre Estée Lauder Advanced Night Repair Questo è buonissimo E' un siero da usare la notte E' veramente, almeno io tutte le volte che l'ho usato E' una delle cose migliori della Estée Lauder Deve essere sincera Ho anche Makeup Estée Lauder Però per me è una delle cose migliori che abbiano mai fatto E con questo è tutto, ciao alla prossima